Buonasera, una vittoria che lo Spezia ha costruito nel secondo tempo, due tiri in porta, due gol, castrati mai impegnato, però siete stati bravi a sfruttare le occasioni avute. Noi oggi siamo stati bravi come sono state brave tante squadre che ci hanno affrontato, dove in altre partite meritavamo nettamente di vincere, invece andavamo a casa senza punti. Oggi un secondo tempo diverso dal primo, dove chiaramente arriviamo da tre sconfitte, l'aspetto mentale non è dei migliori, sei contratto, abbiamo mantenuto questo possesso, ma quando diventa sterile e non attacchi gli spazi è inutile. Nel secondo per forza di cose dovevamo accelerare, dovevamo essere più propositivi, abbiamo portato più uomini dentro l'aria di rigore, qualche ragazzo è cresciuto in qualità, qualche pallone importante è arrivato dentro l'aria e abbiamo vinto la partita. Poi diciamo che lei ha anche azzeccato le sostituzioni. Per una volta ci ho azzeccato, è andata bene perché è chiaro che quando un ragazzo si impegna, si allena, va forte, è un dispiacere per un allenatore non farlo giocare. In quest'ultimo periodo Gudionsen ha fatto bene, ci stava la sua presenza in campo perché stavamo avendo un forcing importante, lui ha un colpo di testa eccezionale, l'ho vista così e oggi l'ho azzeccata. L'analisi della partita italiano, lei l'ha fatta in maniera chiara, ha fatto capire il secondo tempo senz'altro migliore del primo. La mia prima domanda è che cosa è detto ai ragazzi nell'intervallo prima del secondo tempo perché dagli spalti si è vista un'altra partita rispetto al primo tempo e il suo giudizio sul gol regolare annullato a Brunori. No, ma è la solita squadra che è in difficoltà, che ha paura di prendere il cazzotto, poi lo prende, chiaramente si deve dare una mossa, si deve svegliare. Noi a fine primo tempo eravamo ultimi spiaccicati in classifica, è normale che se hai un po' di orgoglio, un po' di amor proprio devi prendere e entrare in campo con un altro spirito. Siamo stati bravi da questo punto di vista, allora vuol dire che questa squadra è un'anima, ha qualità, ha determinazione e quando decide di farlo la tira fuori. Il gol, ho visto questo cross, non lo so se è da annullare o meno, ma ripeto oggi un pizzico di fortuna anche per quanto riguarda noi, che ripeto, non è stata una nostra super partita, però dovevamo raccogliere prima, ci prendiamo questi tre punti e mi auguro che siano un punto di partenza. In settimana il suo ex giocatore Costa Ferreira, ha detto italiano, è un tecnico rivoluzionario, oggi una mezza rivoluzione nella squadra l'ha fatta nel secondo tempo. Pedro parla bene perché insieme abbiamo gioito, abbiamo vinto, abbiamo fatto un qualcosa di impensabile l'anno scorso, è un ragazzo eccezionale come tutti quelli che ho avuto l'anno scorso, me lo sono inventato terzino destro, nessuno mai si sarebbe inventato una cosa del genere, ha dato grossissimi risultati. È un ragazzo che stimo, è un uomo vero, oggi l'unica cosa che mi è venuta in mente è di cercare di sfruttare la fisicità di Sven, è stato bravo ma vanno fatti i complimenti a lui, non aveva mai messo piede in campo, entra, vuol dire che è un ragazzo che per la causa dà tutto e vanno fatti i complimenti sinceri a lui. L'ultima mi risponda se è così o no, al di là di Gudi Onsen, comunque lo Spezia nei primi 23 minuti aveva schiacciato il Pescara, è stata solo una questione mentale tra primo e secondo tempo o tattica? Mentale o tattica? Mi risponda solo così. No, a noi ti ripeto, il principio che ci sta rimanendo e di questo sono contento anche nelle difficoltà è quello di palleggiare, di avanzare palleggiando e non buttando il pallone. Ma tra primo e secondo tempo è stato un cambiamento mentale o tattico? Perché la partita è stata completamente diversa. No, mentale soprattutto, poi in primis ho chiesto a Ricci di rimanere un po' più dentro a campo, di fianco alla punta perché sempre in ampiezza era dura andare a far gol, quindi mentale 90%, qualcosina ci ho messo anch'io. Ultimissima battuta italiano, ultimissima battuta, parlava del primo tempo spiaccicati ultimi in classifica, in quei momenti ha pensato che ci sarebbe potuto essere anche un esonero a fine partita in caso di sconfitta? No, a fine primo tempo non l'ho pensato. A quelle robe lì penso che qualsiasi altro allenatore non gli passa per la mente, gli passa solo per la mente cercare di trovare la soluzione giusta. Sono rimasto lucido, fidatevi, quella sostituzione per la prima volta è motivo di un allenatore che non sta a pensare ad altro, solo ed esclusivamente far vincere la propria squadra. Poi siamo tutti in bilico, qualsiasi allenatore quando decide di fare questo mestiere sa che deve vincere le partite, non deve perderle, se no va a casa. Quindi sono questi i tre principi fondamentali.